Sarà la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio Comunale di Sassari, Mario Pingerna, a fissare la data dell'Assemblea Cittadina con all'ordine del giorno la presentazione delle linee programmatiche della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. La prima data utile potrebbe essere quella di giovedì, un documento che avrà come linee guida quelle del programma elettorale presentato in occasione delle recenti elezioni amministrative e che è risultato vincente premiando la coalizione del campo largo. Il programma dovrebbe contenere una serie di idee che hanno come linea guida quella del cambiamento della città in diversi ambiti, economico, sociale, culturale e sportivo. L'obiettivo del sindaco Mascia è quello di trasformare i progetti in azioni concrete. Una fitta agenda, quella della maggioranza del centro-sinistra, cui dar seguito durante il mandato con l'impegno di tracciare a favore dei cittadini un puntuale resoconto di quanto fatto anno per anno. Quella che attende il sindaco Mascia è una sfida importante, far ritornare la città di Sassari punto di riferimento per tutto il nord-ovest della Sardegna.